Nella giornata di ieri 2 agosto l'Udinese ha perfezionato l'acquisto del terzino destro classe 2004 Gonzalo Esteves acquistato dalla formazione B dello Sporting di Lisbona a costo zero fondamentalmente perché comunque gli era scelto il contratto e alcuni di voi mi hanno chiesto appunto di parlarne e di dire la mia sul fatto se possa essere o meno titolare in quest'Udinese ovviamente un giocatore giovane appunto 20 anni compiuto nel febbraio 2024 non ho trovato video interessantissimi anche perché alcuni sono un po' datati e quantomeno le statistiche soprattutto anche perché comunque il giocatore nella scorsa stagione ha giocato in prestito nella formazione B diciamo così della zia di Alkmar in Olanda quantomeno la seconda parte di stagione dove comunque ha raccimolato circa 14 presenze, un gol e due assist una roba del genere comunque è stato semi titolare appunto nella formazione giovani dell'Ajax diciamo così nella seconda squadra non dell'Ajax della zia di Alkmar nella che è in campione indivisi appunto la serie biolandese e sono qui appunto a dire la mia sia sul calciatore che appunto sulla sua prospettiva secondo sottoscritto all'Udinese. In primis bisogna dire che appunto è un class 2004 che è cresciuto calcificamente nel Porto dopo appunto avesse la media dello Sporting Lisbona, poi della zia di Alkmar e la formazione B e poi è ritornato dal prestito al zia di Alkmar allo Sporting Lisbona. Da qui comunque l'acquisto a costo zero da parte dell'Udinese. Il giocatore ha firmato un quadrennale quindi fino al 2028 con i friulani è un terzino diciamo così che può fare anche l'ala inteso come centrocampista di fascia tutta fascia appunto mamma mia che cacofonia. Di 176 centimetri un baricentro regolare e soprattutto lui ha veramente un'ottima esplosività sia sul breve che sul lungo. Ha questi quadricipiti ben formati, ben torniti, discretamente un pochino ipertonici che gli conferiscono appunto questa corsa forte, potente, ripeto anche sul breve. È molto reattivo, molto scattante il baricentro regolare gli fornisce una buona stabilità, sa usare bene il fisico in fase difensiva ovviamente poi dipende, rappresenta un pochino la classica scommessa. La classica scommessa l'Udinese che va a prendere un giocatore che comunque in prima squadra ha quasi esperienza zero però comunque ha fatto una buona trafina nelle nazionali giovani portoghesi. Ma appunto è una scommessa arriva a costo zero, un giocatore che male che vada non ti rende, ti fa fare un anno in prestito poi c'è il discorso Watford, il discorso che poi magari da qui a uno o due anni se non ti rende lo vendi a costo di una penna Bic e comunque ci ha fatto plus valenza. Poi appunto è sempre il discorso Watford, insomma è un classico investimento alla Udinese quindi che punta sui giovani sconosciuti, ripeto poi non è stato neanche pagato quindi voglio dire ciaoone. Anche perché comunque la gente è lo stesso di Joe Pereira quindi è facile anche che c'è stato questo link per portare questo giocatore a Udine per il resto un giocatore appunto che ha buone doti offensive, spiccate doti offensive ma che ha ancora un diamante da sgrezzare perché comunque per quanto io possa elogiarlo a livello atletico, a livello tattico, a livello soprattutto di interpretazione di gioco deve tanto crescere, deve fare esperienze in prima squadra assolutamente perché è uno che sembra la versione beta di Cucureia nel senso che molte volte tenta l'uno contro uno forzato tenta sempre questa corsa, questa sgroppata sulla fascia destra però magari gli sviluppi di gioco richiedono altri tipi di interpretazioni quindi magari c'è uno scarico disponibile, puoi fare un 1-2 è un classico terzino moderno quindi che fa anche le sovrapposizioni interne che comunque si accenta sul campo ma comunque col sinistro un po' poca roba quindi molte volte tenta lo scarico, cerca il dialogo insomma lo vado a collocare in un'ottica di un giocatore giovane giovane, che comunque il 2025 farà 21 anni anzi tra 6 mesi più o meno farà 21 anni quindi giovane ma non troppo un giocatore che ripeto poi è da collocare ipotizzando anche in un'ottica Watford ultimamente abbiamo avuto esempio di Mateusz che comunque è stato preso è stato dirottato dal Watford preso ovviamente dall'Udinese, dirottato in presto dal Watford non ha mai esordito, mai giocato, mai vestito alla maglia bianconera mi è stato ceduto in Brasile per un suo ritorno appunto in Brasile per 10 milioni di euro quindi ecco che tu vai comunque a prendere un profilo che può diciamo così rappresentare un'ottica, una possibile plusvalenza sicuramente anche perché poi bisogna contare sempre perché l'Udinese a destra ha Seizibue il 95 che è Bosele, un altro giovane quindi bisogna vedere poi quale sarà la scelta del nuovo tecnico su quella fascia perché comunque tre uomini sono tanti Esteves è una scommessa ci potrebbe stare però che magari il club potrebbe magari voler puntare su Bosele comunque un esterno di grande gamba e magari decidere di monetizzare su un Esibue ad esempio anche perché Esteves non è il tipo di giocatore da dire lo prendi e lo metti come braccetto a dire ok lo metti come braccetto di destra che ti può far salire l'esterno sta roba qua quindi bisogna vedere i piani dell'Udinese secondo me ad ora non può essere un titolare dell'Udinese comunque va testato bisogna vedere il suo adattamento lo trovo veramente un rischio ecco prenderlo e buttarlo lì poi ripeto magari viene qui si adatta subito e si dimostra veramente un super talento da buttare appunto in prima squadra onestamente considero un pariruolo più o meno lì vanno come Nensia lui ha fatto un percorso in next gen da titolare anche da mezzala e adesso sembra che potrebbe essere aggregato alla prima squadra della Juve ma sempre un 2004 comunque ha già avuto esperienze in Olanda se lo ricordo anche in prima squadra anche se non tantissime ma comunque si è fatto un anno di esperienza in squadra B ecco se l'Udinese avesse avuto una squadra B avrei detto perfetto sarebbe un acquisto ottimo perché tu lo prendi di fare un anno di praticantato in serie C in ipotetica squadra B dell'Udinese e poi magari lo valuti e lo inserisci da 0 a 100 prenderlo e metterlo in prima squadra veramente ritengo un grande rischio quindi come contestualizzarlo contestualizzarlo come un investimento una scommessa che ripeto bene che ti vada lo tieni male che ti vada lo vai a cedere e fai plus valenza senza ombre di dubbio ma ad ora ecco secondo me Bosele e Zibo sono passi avanti rispetto a lui anche perché a lui ripeto manca l'esperienza in prima squadra poi le doti atletiche sono ottime ma deve crescere deve sgrezzarsi deve tanto sgrezzarsi un'altra cosa che volevo dire l'Udinese ha fatto un'offerta poco inferiore 10 milioni di euro all'anversa per Ekellenkamp è un'offerta un milione al club appunto che detiene i diritti sportivi per Jesper Schellström allora riguardo Schellström riguardo entrambi i giocatori aspetto un attimino a fare un passo in là perché voglio vedere prima se comunque c'è un'opportunità concreta che tutto si concretizzi altra cacofonia non ci facciamo mancare niente ma contate che su Ekellenkamp se sbirciate nella playlist presentazioni calciatori già trovate un video perché tempo addietro era entrato in ottica a Torino quindi il giocatore e il video l'avrò fatto un annetto fa quindi il giocatore è quello perché comunque non è che da un anno all'altro prima è A e poi diventa Z ma sicuramente e quindi vi invito preventivamente di andarla a vedere poi farò eventualmente un video per contestualizzarlo in Udinese perché in un Torino si parlava comunque di un centrocampo che aveva due centrocampisti centrali e due trequartisti mentre Udinese farebbe secondo me il suo ruolo prediletto che è quello della mezzala e quindi magari andrei a contestualizzarlo più in quel tipo di gioco riguardo Shestrom la stessa cosa vale la stessa cosa che ho detto per Ekellenkamp con la differenza che per Shestrom non ho fatto un video di presentazione quindi lo farei ex novo anche se comunque parliamo di un centrocampista anche abbastanza esperto quindi comunque lo farò perché è un giocatore che non si conosce tanto quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti come vedete voi l'acquisto di Gonzalo Esteves io la mia ve l'ho detta e mi raccomando andatevi a vedere preventivamente il video su Jürgen Ekellenkamp vi mando al bracione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi